Nell'ultima settimana i media nazionali si sono occupati di Spezia per due fatti di cronaca. Il primo riguarda le multe inflitte con l'autovelox nel 2023. Al primo posto in Italia è risultato il piccolo comune di Carrodano che ha incassato 975.000 euro che rapportati al numero degli abitanti, sono 464, fa 2100 euro per abitante. Un record assoluto tenuto conto che il secondo comune in questa gradatoria è quello di Firenze che ha introitato una cifra corrispondente a 198 euro ad abitante, molto distante dunque dai 2100 di Carrodano. Il sidaco di Carrodano, Carlo Leveratto, investito da questa non invidiabile popolarità, ci ha frettato a spiegare che in realtà la somma incassata per il 2023 si riferisce a tre anni di autovelox e non a uno soltanto. Che il suo comune incassa da quell'autovelox non più di 150.000 euro l'anno perché la fetta più consistente la prende la provincia che è l'ente gestore della strada dove è piazzata la macchinetta e infine che gli automobilisti multati per eccesso di velocità sono soprattutto foresti e non abitanti del luogo, come se tassare i turisti fosse più commendevole. L'altro fatto di cronaca di cui ci sono occupati i media nazionali è l'assalto alle 5 terre da parte delle imbarcazioni attrezzate per traghettare i turisti. Il trasporto via mare è un'attività in grande crescita, specialmente dopo la stangata del costo dei biglietti ferroviari. L'anno scorso il parco ha concesso 110 autorizzazioni a fronte di 200 domande e molti degli esclusi si sono rivolti al TAR per cercare di entrare nel ricco giro delle escursioni marittime. 30 sono stati ricorsi e solo 5 sono stati accolti. Quest'anno però il numero delle autorizzazioni è salito a 130 perché c'è stato un aumento di imbarcazioni passate a motori elettrici. Per contenere l'assalto dei traghetti il parco applica parametri che tengono conto dell'inquinamento acustico e di quello atmosferico monitorati con regolarità. Insomma non c'è discrezionalità da parte del parco ma soltanto l'impegno a salvaguardare l'ambiente.